Il centro di Lanciano torna ad immergersi nell'atmosfera vintage degli anni 40 e 50. Dopo due anni di fermo a causa della pandemia da Covid, torna Baciami Piccina, che quest'anno si svolgerà in tre aree diverse. Oltre Piazza Garibaldi, infatti, la manifestazione tanto attesa dell'estate lancianese occuperà anche Piazza Plebiscito con le auto d'epoca della Camect e le Harley Davidson e Piazza del Malvaux con il country del gruppo Wild Angels. Gli ingredienti ci sono tutti, dal burlesque alla sfilata vintage, ai gruppi rockabili al grande ritorno per la terza volta in città del pianista Antonio Sorgentone.